C'è preoccupazione tra titolari dei pubblici esercizi dopo che è ripresa la scia di furti tra i bar cittadini. Nel Merino ancora una volta sono finite le slot e tre colpi in una settimana sono decisamente troppi. Ad esprimere vicinanza titolari delle attività colpite ma anche a segnalare la preoccupazione dei colleghi che temono ogni mattina la Mario di sveglio e la Confesercenti. La preoccupazione, detto il direttore Mario Checaglini, è che il fenomeno continui. Tre colpi in una settimana rappresentano un campanello d'allarme. Non vogliamo che la categoria debba convivere con la microcriminalità. È accaduto in Via Romana, poi via Fiorentina ed infine in zona Tortaia. Non possiamo risolvere il problema eliminando le slot dalle attività. Il problema non sono i soldi, prosegue Checaglini, contenuti nelle slot ma la microcriminalità. Siamo fiduciosi dell'operato delle forze dell'ordine che portano avanti le indagini e ci auguriamo che presto la banda delle slot venga bloccata. Nel frattempo conclude, rilanciamo la necessità di maggiori controlli e pattugliamenti notturni per le strade cittadine in modo da scoraggiare i ladri.